E visto che è periodo di esami sono andato a fare un po' i compiti a casa, ma precisamente Southgate, perché allena l'Inghilterra? C'è una motivazione... C'è una motivazione... Stop! Stop! Perché, ragazzi, questo qua ha esordito come allenatore del Middlesbrough e in tre anni è riuscito a farla retrocedere dalla Premier League in Championship. C'è riuscito. Dopo si è trovata ad allenare l'Under 21 dell'Inghilterra ed è dal 2016 CT dell'Inghilterra. Dal 2016 CT dell'Inghilterra. È arrivato in finale Euro 2020-2021 in realtà... Stop! Sono otto anni che ha, se non il bacino di giocatori più talentuoso a contingere, sicuramente tra le nazionali che può modellare meglio, no? Eppure, ragazzi, vederli in campo è dilaniante. Io impazzisco veramente. Impazzisco perché oggi la partita è andata male per come è stata preparata. Lasciamo stare che passa in vantaggio, no? Parliamo di calcio giocante. È andata male ed è finita peggio per la gestione delle risorse. Sai, quando non hai alternative tattiche, no? Non è che poi vai a cambiare i giocatori in maniera assennata. No, li levi così, tanto per... A seconda un po' delle energie, no? Forse quelli hanno dato... Bah, sai che c'è? Li cambio tutte e tre lì davanti. Non mi importa neanche chi siano. Non mi importa se è che... Non conta nulla. Li cambio. Cioè, questo vi dà un po' la misura di quello che sta succedendo. L'Inghilterra, ragazzi miei, è qualcosa di clamoroso, no? Ripeto, per talento. Io ancora fatico a mettere in ordine le idee. Non so da dove partire. Un'altra roba che mi manda al manicomio è la scelta di Alexander Arnold lì davanti alla difesa. Che attenzione, vuoi fare il genio della situazione, no? Alcuni li butto fuori ruolo. Magari lo stesso Foden, che giocherebbe molto più centrale. Trippier. Ripeto, Alexander Arnold, vuoi fare il genio? Ma se vedi che la cosa non funziona e l'abbiamo già visto con la Serbia, poi se un minimo di giudizio c'è, ripropone un'altra roba. No, lui invece persevera. Cioè, persevera. E non è, non solo calcisticamente parlando è ciuccio, ma è anche presuntuoso. Non solo ciuccio, è anche presuntuoso. Questa è la roba che mi manda al manicomio. Ciuccio è presuntuoso. È incredibile. Ma attenzione, è un bene. Per noi, teoricamente parlando, è un bene. Perché questa è una squadra che, in teoria, alle fasi finali ci deve arrivare proprio a mani basse. Anche facendo le cose sbagliate, cercando di complicarti la vita, come sta facendo lo stesso Sauter. Stiamo parlando di una squadra che comunque ha quattro punti in due partite. Cioè, orribile, brutto, quattro punti in due partite. Perché? Perché, come dicevo prima, c'è talmente tanta roba. C'è talmente tanto materiale. Tu ti puoi permettere, cambiandoli tutti lì davanti, di tenere in panca col Palmer. Che è un'altra roba fuori dal mondo. Cioè, questo qua che in due partite ancora non ha giocato un minuto col Palmer. Che ha fatto una stagione divina, fantascientifica. Devi provare a cambiare un po'. Devi fare qualche scelta. Devi mischiare le carte. Che è l'unica cosa che sai fare. Col Palmer lo tieni lì al fresco. Cioè, infatti, che stiamo parlando? Ragazzi, è un miracolato. Se ancora è su quella panchina, senza ombra di dubbio, è perché è un miracolato. Perché davvero, noi ci lamentiamo qui in Italia delle raccomandazioni e tant'altro. Ma spesso dobbiamo guardare anche chi ci sta attorno. Guardiamoci anche chi ci sta attorno. Perché critichiamo sempre noi stessi. Ma ripeto, l'Inghilterra, robe, 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 robe che non hanno nessuna ragione logica. Oggi la partita è fatta la Danimarca. Oggi, con gli occhi chiusi o perlomeno, mi calano dalla luna. Arrivo sulla Terna e non so chi è la squadra, chi è l'Inghilterra, chi è la Danimarca. Io inverto i ruoli. Perché la Danimarca ha giocato veramente bene, secondo me. E fino alla fine, ragazzi, ha avuto le chance per far male. Nel finale, che era, bah! Che lì gli è mancato un po' di quella freddezza, di quella capacità, no? Un po', ma il tiro di Hoiberg. Ripeto, di situazioni la Danimarca ne ha avute. Anche il gol di Juhlmann, bellissimo, onestamente. Ma proprio la partita fatta massiccia, seria. E niente, niente. L'Inghilterra, là, va affolate. Una mezza giocata di Foden. Che se gli dai un po' di spazio, quello dal nulla ti colpisce il palo. Ma ribadisco, veramente, veramente, veramente poco. Anzi, è servito una disattenzione clamorosa lì dell'esterno difensivo danese per mandare il gol Kane. Altrimenti non lo so oggi se lo trovavano, no? La marcatura, non lo so francamente. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Nel calcio di oggi, l'ho già detto più volte, l'impalcatura tattica conta tantissimo. Non prendiamoci in giro. L'Inghilterra ne è davvero la prova scientifica. Perché l'Inghilterra può dare 3-4 gol a chiunque, in teoria, per, come ho detto mille volte, il ben di Dio. Cioè, l'unico giocatore che, secondo me, che si sente a proprio agio è De Klaer Reis. Perché c'è da far legna, c'è da far legna, e lui in quello è maestro, ed è l'unico che, vediamo, che rende alla grande. Ma per tutti gli altri è veramente, è veramente dura, è veramente una fatica. L'Inghilterra, lo ribadisco, per quello che c'ha, riuscirà comunque ad arrivare avanti. Ci servirebbe veramente un clamoroso suicidio. Ma io, una squadra che, anche ad occhi chiusi, arriva tranquillamente in semifinale. Poi, vediamo, vediamo quello che succede. Niente, adesso tocca a noi, concentriamoci, speriamo bene. Potemiglio, dai, 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 almeno prima della partita, siamo lì col cuore aperto e aspettiamo la nazionale. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la carta e se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Torniamoci.